Ciao a tutti, il tuo colore preferito rivela molto sulla tua personalità. Vediamo un attimino che assonanza c'è tra il colore preferito e la personalità. Prima di fare questo però, iscriviti al canale e seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ora, prima cosa, pensa al colore che preferisci di più. Pensa a questo colore. Ti lascio un po' di tempo, pensa al colore che preferisci di più. Rapido, rapido. Bene, ora che hai pensato al colore che preferisci di più, veniamo alla chiave di decodifica. Allora, se hai pensato al bianco o al nero, cioè il bianco e il nero, uno dei due, allora significa che sei una persona di larghe vedute, una persona che ha, diciamo, non è limitata mentalmente, diciamo, è una persona che sa negoziare, che sa interagire, ha una capacità di negoziazione ed evita di prendere decisioni scomode. Cioè, se deve prendere decisioni scomode, preferisce procrastinare, preferisce spostare nel tempo. Se hai scelto il colore rosso, ovviamente nelle sue diverse tonalità, tendi ad essere una persona estroversa, energetica, energica, che ha molta energia, ma anche impulsiva nelle cose, quindi potenzialmente iperlogica, potenzialmente comunque istintiva, impulsiva, e una persona comunque con molta energia che è anche disposta a spenderla, a spendere questa energia nel lavoro. Di solito le persone che preferiscono il colore rosso sono comunque persone che lavorano, lavoratori, lavoratrici. Se hai scelto invece il colore arancione, la caratteristica che contraddistingue principalmente è la passionalità, proprio nel rapporto passionale, ma anche la curiosità, scoprire cose nuove, essere proiettato verso, non una persona che va via da la sofferenza, ma una persona che va verso nuovi obiettivi. E veniamo a se hai scelto il colore giallo. Le persone che hanno scelto il colore giallo sono persone solari, questo è il colore giallo, il colore del sole, persone gioiose, persone che sono dinamiche, la dinamicità, comunque la gioia, esprimono gioia da tutti i pori, le cose dite persone solari. E poi abbiamo il colore verde. Chi ha scelto il colore verde tende a essere una persona equilibrata, un po' zen, diciamo, equilibrata, con una buona sensibilità. Quindi la sensibilità è essere sensibili, la capacità di emozionarsi anche con pochi stimoli. E poi abbiamo la scelta del colore blu, che invece è indice di riflessione. La persona è riflessiva, le persone tranquille. Il colore blu è un colore calmante, viene anche messo, diciamo, nelle sale d'aspetto dei medici, perché tende a calmare il colore blu. Chi ha scelto il colore viola, o agli affini, diciamo, al colore viola, tende a essere una persona sensuale, il colore viola è quello della sensualità, ma anche una persona comunque creativa, molto creativa, che sa sviluppare creatività. E poi abbiamo il colore rosa. Ecco, il colore rosa è un colore che, diciamo, rappresenta i poli opposti, persone che oscillano spesso da un polo all'altro, cioè dolce, ma comunque un po' ossessiva dall'altra parte, fredda, ma talvolta anche passionale. Ecco, possiamo, questa sorta di polarità, di oscillazione, di bipolarità, cioè oscillazione da un estremo all'altro. Questa è una caratteristica, appunto, del colore rosa. E poi il colore marrone, diciamo, e derivati, sono persone che amano, ecologiche, diciamo così, amano la natura, amano, diciamo, l'aria aperta, sono persone che sono anche caratterialmente aperte, caratterialmente disponibili verso gli altri. Queste sono alcune caratteristiche che noi possiamo riscontrare, diciamo, in funzione del nostro colore preferito. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di qui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!